Yelfry Guzman sarà guarito in 60 giorni e questa è la buona notizia che arriva dall'ospedale Santo Spirito di Pescara dove medici hanno sciolto la prognosi riservata del 23enne. Il giovane lavoratore, ferito da cinque colpi di pistola e riduce da tre interventi chirurgici, è stato spostato dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia. È stabile e cosciente ma il percorso riabilitativo sarà lungo e nei prossimi giorni sarà chiarito il quadro neurologico. Da un letto d'ospedale e con la sua mamma seduta accanto il ragazzo risponde ci vediamo presto ai tanti messaggi di solidarietà che in questi giorni sono giunti dall'intera comunità pescarese e non solo. Al momento Yelfry a causa delle sue condizioni di salute non è ancora stato ascoltato dagli inquirenti. Intanto Federico Pecorale, immortalato mentre spara dalle telecamere di videosorveglianza del locale, resta in cella a Pesaro. Il giudice per le indagini preliminari, che ha deciso per incompetenza territoriale il trasferimento degli atti a Pescara, ha convalidato la misura cautelare della custodia in carcere, giustificata dal pericolo di reiterazione del reato. Il grave fatto di sangue è maturato in un contesto totalmente eccentrico rispetto alla sequenza degli avvenimenti e quanto messo nero su bianco dal GIP e accresce l'allarme sociale il fatto che Pecorale, privo di autorizzazioni, girasse armato e pronto a sparare. Il 29enne di Montesilvano, ma da anni residente in Svizzera, si è rifiutato di rispondere alle domande del giudice e il suo legale ha chiesto la perizia psichiatrica. Dovrà rispondere di tentato omicidio e porto abusivo d'armi. La Beretta 635 infatti era illegalmente detenuta e ora si sta indagando su come possa essersela procurata e perché girasse con quella piccola pistola carica in tasca. La sparatoria ha riacceso le polemiche sulla questione sicurezza in città con uno scambio di accuse tra gli schieramenti politici. Alcuni episodi non possono essere impediti ma il sistema di sicurezza ha funzionato perfettamente, ha dichiarato il sindaco Masci. A Pescara la sicurezza funziona e ha funzionato bene grazie alla polizia di stato e quindi alla squadra mobile che ha individuato il colpevole lo ha seguito con un'attività di intelligence eccezionale e ha assicurato alla giustizia il colpevole ma anche grazie a un sistema di sicurezza di questa città che funziona, che ha funzionato perfettamente questo sistema di telecamere intelligenti che abbiamo inserito l'anno scorso e che ha funzionato. Questa è stata la prova del 9 credo. Durante la fuga organizzata secondo il giudice, con fermezza, Pecorale aveva pattuito 1.500 euro col tassista per farsi riportare in Svizzera dove percepisce 1.500 franchi di invalidità civile riconosciuta a seguito di un incidente in moto nella 2010 a Montesilvano. La fuga però è stata interrotta dalle forze dell'ordine nei pressi di Pesaro.